Uccelli a posto, motori ok. Guardi a costiera in difficoltà. La Tigris serve supporto aereo. Una cosa alla volta ragazzi. Occupiamoci della base e poi aiuteremo la Tigris. Ricevuto. Partiamo! 3-1, massima velocità. Scara 1-2, fuori. Dobbiamo riprendere il controllo dei cieli per non perdere il gateway. Diamo una bella ripulita e scacciamo il set DEF dallo spazio aereo. 4 unità, 4 unità, di arrivo. Uno scuolone, capitano! A gamma! A gamma! Se all'opino spingiamo, non molliamo ora! Due battute! Uno scatter distrutto! Versaglio, ore 10! Usano missili guidati. I Jekyll della guardia costiera non sono pronti. Tigris, serve qualcosa che bilanci la situazione. Ricevuto a scala 1-1. Trone di supporto missilistico in arrivo ed indicare la zona di lancio. Posizione segnalata. Trone in arrivo. Pronti a far fuoco? Skar, dateci dentro con quei missili! Capitano, il suo stato... Base è quasi libera. Stiamo facendo pulizia. Ne mancano pochi. Finiamoli e aiutiamo la Tigris. Siamo quasi. Skar, IJek nella zona di combattimento. Attaccate quelle navi! 3-2, pronta a sparare! Ricevuto, 3-1 in arrivo. Ricevuto, attaccano le torri! Si allontana! 5 colpita! Squadra, fate fuoco su quelle navi! Mirate alle armi! 3-2, potessero rivolto! Guarda su questi posti! Guarda sui loro autori! Guarda sui loro autori! Guarda sui loro autori! Quando due. Guarda sui loro autori!" Guarda sui loro autori! Continuate, facciamo i progresi! E dai mi fermi! Si stavi fuoco sui��! Guarda. Placani! Contro misure! 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 Porto sotto controllo, Capitano! Affermativo! Scar, pronti al lancio orbitale! Ricevuto, saliamo! Reyes siamo in posizione, ti aspettiamo! Ottimo lavoro, Marine! Preparate al trasporto! Ci vediamo sulla rete push! Affermativo, sergente! In bocca al luto delente! Rider, danni al motore di sinistra della Tigris! Serve supporto immediato! Rider in arrivo per abbordare la nave nemica! Attendere! Qual è il piano, Capitano? Usciremo dalla prua! Abba bordo! Poi dritti in plancia! Una volta dentro disattiveremo plancia e armi di poppa! Ok, finito il lavoro usciremo dalla stiva di carico! Esatto! A quel punto la Tigris aprirà il fuoco! Il blocco è un bel versaglio! Ora i codici in alto! Lo vedo! Tigris, contatto visivo! Tigris, contatto visivo! Ricevuto! Fuoco di copertura! Fuoco di copertura! Tutto dietro di me, Rider! Seguo Fever! Occhio a controaerea! L'ho visto! Jacko, l'alleato abbattuto! Siamo alla zona di lancio! Lancio in tre! Uno! Via, via, via! Uno, due fuori! Uno, uno fuori! La planza è da davanti! Roger, andiamo! Ecco che arrivano! Fateli fuori! Siamo in tempo, in arrivo! Contatto nemico! Respignati! Gli schelte sono troppo vicini! Tigris, fate qualcosa per quegli schelter! Ricevuto! Ci pensiamo! Avanti, dai! Forza, nemiche! Mori, non dici! Attenzione ai razzolissimi! Ah, sono allo scoperto! Ho un messaggio! Ore 12! Stanno cerendo! Ai detenti! Contatto alle barattie! Forza, nemiche! Ore 11! Sì, ci sono! Gli scudi sono correttivi! Ricevuto! Tigris, siamo all'esterno della plancia! Irrompiamo! Ricevuto! In attesa! Ti mando in colto! Forza, andiamo! Sergente, copra l'uscita! Ethan, disattiva le armi principali! Fai gli ordini! Sol dalle finestre! Serve il tesserino del comandante! Serve il tesserino del comandante! Prendiamo il tesserino e andiamo, capitano! Tigris, armi principali fuori uso! Passiamo alle secondarie! Ricevuto! Giù per il pozzo dell'ascensore! Via! Il controllo di poppa è vicino! Dai, dai, dai! Non ti faccio! Non sparate, non sanno che siamo. Il controllo è di qua, un po' di più in basso. Bello! Apre! Squadre eroate a rapporto in sala tattica. Alpha Juliet. Certo. La plancia è fuori uso. Non sappiamo dove sono. Passiamoli via! A lavoro, Ethan. Disattiva le armi secondarie. Bene. Hai richiesto il tesserino per accedere. A livello generale, questa non è un'esercitazione. Ripeto, hai un po' di più. Collegamento in corso. Condizioni 1 a livello generale. Le armi sono bloccate. Capitano, ho trovato qualcosa altro. Sembrano posizioni di navi nemiche. Puoi scaricare? Già fatto, capitano. Bene. Andiamo. Tigris, armi fuori uso. Ci dirigiamo all'uscita. Sergente, ci porti fuori. Ci piglie. Perci ander